di chi era colpa adesso sentiamo sentiamo di chi era colpa adesso di chi era colpa adesso di quel grande allenatore lì no no adesso non ci salva nessuno stasera non ci salva nessuno conte di solito lo difendevo tutte le scuse del mondo ma è colpa tua qual è colpa tua perché non sa gestire le partite non puoi non puoi allora fare una partita di merda il primo tempo cabrosi scandalosi screener schiena proprio s'addormentata andano ci è asciuta a cazzo tutte cose da i addini sempre in campo dai addini in campo 90 minuti non lo posso vedere tralasciando quello tralasciando quello ma sei due a un cazzo sei due a uno cazzo sei due a uno pure a culo pure a culo quel cazzo di che andreva di merda che ragazza che ha segnato tutto lukaku ha fatto lukaku e sanchez gli unici che hanno giocato sta partita gli unici che hanno giocato centrocampo inesistente borca valero fa cagare gaiardini fa cagare candreva fa cagare brosovic è un altro scoppiato come al solito come screener pure screener non si salva neanche godin assolutamente assolutamente neanche andava non ci salva nessuno ma neanche conte neanche stasera conte stasera conte ti penderei a schiaffi ti penderei a schiaffi perché non puoi manca un quarto d'ora e tu hai fatto soltanto due cambi ma non ti rendi conto che questi qua sono scoppiati non si reggono in piedi metti erics in 87esimo cosa mi rappresenta io al 2 a 2 del verona mi sono messo a ridere non esulto più i gol dell'inter non esulto più quando vedo partite del genere che fanno cagare non esulto più poi pareggia verona mi sono fatto le risate perché me l'aspettavo me l'aspettavo siete prevedibili siete ormai sono tutto ormai l'inter è scritta le partite dell'inter sono scritte inizia di merda e poi magari rimontiamo detto ma vediamo se stavolta siamo in grado di mantenere il risultato no come costa solo di fatti così non è successo chissà come mai chissà come mai perché quel cazzo del natore lì non sa gestire le partite non lo sa gestire non le sa gestire assolutamente gaiardini sempre il titolare ma perché perché cazzo c'è che un gaiardini ti piace così tanto sta merda ma metti a gomè piuttosto ma io non lo so ma io non lo so meno male che con lunedì non gioco ma tanto noi dico il toro regaliamo punti al toro piuttosto ma noi facciamo salvare ma ne facciamo salvare non lo facciamo salvare no ragazzi io proprio una squadra del cazzo una squadra del cazzo c'è poco da fare ma io non dice vabbè magari era così no uno vede no ma questi qua vincono sei a zero e poi la stagione finisce cioè c'è poco da ragazzi c'è poco da dire sono quattro anni quattro anni abbiamo sempre i stessi giocatori in campo gaiardini candreva borca valero brozovic sono sempre quelli sempre quel gira che tiri e gira arriviamo verso fine stagione e guarda caso guarda caso la crisi questi giocatori qua fanno tre mesi di di rose e fiori bella grande inter scudetto tutte le stronzate varie arriva verso fine stagione e non ci sono scuse non ci sono scuse ragazzi ci sono scuse sono anni che va avanti così non c'è scuse partita ogni tre giorni tutte cazzate tutte cazzate perché qua è colpa di conte stasera è colpa di conti lui in primis lui è il primo lui è il primo è il primo non è indifendibile stasera è indifendibile perché non sa gestire i risultati assolutamente assolutamente a dirà del primo tempo che abbiamo fatto proprio pena proprio iniziato così quello lì andava dritto l'azzovi poi ambarabacicocò ambarabacicocò andava andava pure espulso tra le altre cose ambarabat ambarabat ambarabacombulla pessina sembrano i nomi inventati di pes in master league madonna mia ci fate esaurire ci fate esaurire pazzesco pazzesco siete prevedibili in ogni partita a volte imprevedibile perché ci sei a zero poi colparma lì non aspettava vittoria mentre e meritavamo di perdere questa meritavamo di perdere vincevamo vincevamo diciamo ovviamente abbiamo pareggiato no ragazzi voi voi siete malati nel cervello avete la merda nel cervello avete la merda nel cervello conte in primis e tutti gli altri e tutti gli altri è ingiustificabile è ingiustificabile non ci sono scuse non ci sono scuse ha avuto due opportunità di di avvicinarti la lazio due volte non le ha avute potevamo di tutto la soppassare adesso dove siamo guarda un po dove siamo dov'è l'atalanta adesso è terza ma guarda un po ma guarda un po la gira che ti rigira gira che ti rigira adesso ci raggiunge il napoli ci raggiunge la roma a momenti no perché poi c'è uno scontro con la roma poi settimana prossima voglio vedere come va a finire no ragazzi non lo so io non so cosa succederà non so cosa succederà guarda questa qui guarda guarda questa c'è questa me la spacco per terra mo mo la spacco minchia me la spaccherei per terra guarda spaccherei per terra che schifo di spumante però sono da prendere io che schifo di spumante che mo faccio così e lo sbatto per terra vi giuro vi giuro mi fate vedere gli istinti omicidi mi fate venire allucinante allucinante comunque c'è non c'è nient'altro da dire c'è nient'altro da dire cosa puoi aggiungere di più cosa puoi aggiungere cosa commenti sta partita di cosa commenti scrivi veramente con gli stessi giocatori dove vuoi andare è quello il discorso dove vuoi andare con questi giocatori sono sempre gli stessi sempre gli stessi quelli più forti si scassano barella che è uno mezzo di decente si è scassato sensi ormai non pervenuto continuiamo a lasciare la nengolana a cagliere mi raccomando poi magari non cambiava un cazzo però gira che ti rigira sono sempre gli stessi giocatori sempre di quelli si fanno da quanti anni faccio i video sono cinque anni che faccio i video sulle partite gli ultimi tre gli ultimi quattro bestemmiamo sempre sugli stessi guarda caso cagliardini candreva sempre la solita ti dite era caagliardini candre mai ardini candreva caagliardini candreva brosović, cagliardini candreva brosović, sempre quelli sempre quelli sempre quelli sempre quelli che andrewa brosvić caagliardini candreva brosović caagliardini sto impazzendo, mi fate impazzire mi fate impazzire mi fate impazzire mi fa infatti ti fate infatti